musica illusione, questo non è nuovo non l'ho mai visto questo dovrebbe che poi lo stanno ammbracciando comunque elisabeth fa anche parecchi danni ragazzi elisabeth fa anche parecchi danni tanta robetta è la salsiccia lol lol che opzione è quella per non far vedere la special ah è in basso a destra nel lato destro più in basso poco sopra le carte ci sarà una specie di fulminino con un occhio te ci clicchi quell'occhio ed è quella per le special praticamente quella la ci clicchi levi praticamente ti disabilita e ti abilita infatti è una partita con merlin che aveva anche oggi in più ok buongiorno gil buongiorno migliora rifletta per elisabeth secondo me capidef però come avete visto lei può fare anche dei danni quindi io non escluderei grazie mille trincebue per i due mesi grazie mille vai e grande se il migliore dei tuoi video sono la bibbia per questo gioco questo è un complimento spero sia vero perchè se l'è vero ti ringrazio una fracca allora qua ti vado subito da bombarda a lui anzi 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 siccome meglio merlin perchè non voglio nessuno stun faccio questo per i malus e ti stun lui vai a posto andiamo merlin va giù merlin ci saluta 128 mila mamma mia comunque grazie mille anche a te di ciabue bella lui come un pomeriggio grazie mille anche a son a son zac per il follow benvenuto il bar del grazie mille è un cibo che ti permette di inutile il primo attacco ah di ogni turno attenzione questo non lo sapevo vi giuro non lo sapevo vabbè lui ho tirato esterno la heal e infatti la tirava a posto e tira la ultima bene ma anche sul migliore se mi tirai non me lo shotta e non la tira ah perchè la unit ha tirato la heal addirittura vabbè non so quanto possa essere stonks la... ma io faccio così faccio così oh può cliccare o no e tiro la ulti quella di elisabeth ce la tiriamo ancora un pochino ragazzi proprio per precauzione anche perchè avevamo fuori vita il restituito di danni indietro non mi interessa proprio quindi in questo momento la ulti di elisabeth non ce ne servita niente però comunque abbiamo giocato bene anche senza elisabeth è broken ragazzi elisabeth è brokenissima ma proprio l'adoro 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 se all'inizio avevo un po' di resentimento nell'uscita di elisabeth ora che l'ho provata ora che l'ho pullata ora che qua di fronte a noi è un qualcosa di sbroccato ragazzi non ha senso resistere eh bassissimo non ha messo gli equip forse ecco non gli ha messo gli equip o gliela ha messa ma non ce l'aveva la due R o cose simili quindi continuiamo andiamo subito con single target questo è un bot ma troppo veloce single target facciamo una uniamo e tiriamo lo scudo aspetto aspetto a tirare robe sulle away perchè se mi roba spawn mi rompe il cavolo è brutto eh è brutto ragazzi due minuti e trenta grazie mille a bg firewolf per il follow benvenuto brother grazie mille bella fegoleone oddio grazie mille blu benvenuto benvenuto vabbè fa lo skill up fa la heal o la stun fa la stun infatti su meliodas meliodas va bene ho la heal 2 stelle quindi non so quanto abbia senso tutto questo però va bene va bene così va bene così perchè faccio di questo anzi anzi non la uso la heal grazie mille a cicoto per il follow benvenuto il brother grazie mille non la uso perchè io faccio faccio anzi la devo usare ragazzi dai la devo usare no ma non ha senso tirare non ha senso tiriamo eeeh spostiamo una carta e tiriamo lo stun su quel king eeeh e poi spostiamo un'altra carta di meliodas dai meno una ulticarica dai guardiamo un po' potevo stannare gother ma tanto vado a rimanere special di di lui non mi porto di regalgi in nessun modo quindi va bene così per noi in questo momento posso usare di modo ok va bene grazie del kit mi fa piacere grazie mille grazie di un altro kit no non mi interessa tanto e l'ha fatta anche una stella perchè le fai una stella potevo unirle e farmi due stelle scusa perchè ma dai ma non ha senso ah in questo caso il tiro guardate una bella su questa anzi per essere proprio sicuri questa questa è una bella ulti lo scioppiamo distrutto tutto il team avversario va bene va bene va bene così ragazzi va bene così ciao anni buon pomeriggio Fuego Leone è bellissimo ho sbagliato Fuego Leone non è vero le ragazzi scusatemi l'ho visto Black Clover è solo che ho dimenticato le pronunce di alcuni personaggi vedrà per farvi vedere gli equip di Litz non li ho ancora fatti ragazzi però sappiate che secondo me visto che lei è un support che non è che fa danni anche se comunque li fa però lei deve fare da support fargli l'HPDF è secondo me la miglior scelta la miglior scelta più rimane in campo meglio è bella alzacoro buon pomeriggio bella alzacoro allora in questo caso direi di fare una bella unione una bella cosa del mio suo tipo ecco una bella barri tina non fa mai male non becco il kit va bene poi non mi interessa tanto mi rimane solamente Merlin nel senso allora l'hPDF è la migliore e l'ha messo per questa per questa Elisabeth qua l'hPDF è la migliore tra l'altro ancora non gli ho comprato il vestito ma perchè mi resta di lei che manco me l'ha fatto per con lo scudo what the fuck ma forse aspetta no era una stella forse per qui no non ho visto non ho visto vabbè in questo momento direi di fare grazie mille a Vince per il follow benvenuto il brother grazie mille cazzo mia è una bella single target eeeh prendiamo queste eeeh tiriamo questa tanto non è non penso la butti giù e invece si ma ma mi ha detto che cazzo di carramato che è l'inizio di attack e difesa è affidabile è fattibile si però il problema suo è che lei non è un personaggio che è indirizzato principalmente sul far danno quindi non ha senso bindarla in danno in attacco ha capito? e infatti siamo scalari e let's go dobbiamo fare 3 pp e vincere per rimanere in classifica sopravvero ma se facciamo di questo poi non possiamo più scendere esatto in gear in gear e descendi ah no scendo che ripa allora brutto brutto oeeh c'è un deliello questa si va vicino per oeeh full rosso full rosso ciao tra luce un pomeriggio te com'è sta tutto bene tutto bene ragazzi sto bene sto bene io vado subito sta qua guardiamola subito ragazzi non mi piace per niente facciamo subito un po' di dannetti dai però metà vita è torta non ha nemmeno un healer un healer lui quindi che la metà vita ci sta mi piace eeeh ti sorrita ciao dio bello quanto tempo? ma un botto di tempo mi sembra nelle chat mi sembra un botto di tempo se non mi sbaglio ragazzi se non mi sbaglio il link del gruppo sab non funziona come non funzionerà è impossibile non funzioni è impossibile non funzioni fatemi vedere è letteralmente impossibile non funzioni scusatemi la gente c'è entrata la gente c'è entrata anche ieri è impossibile non funziona ragazzi che danni questo non mi è piaciuto c'ha anche i due stelle riferotti devo vedere no funziona ragazzi funziona e come ma che ti stai dicendo funziona non ci sono per entrare cioè ho appena provato funziona allora siccome non possiamo pensare lei facciamo un'opera di bene facciamo un'opera di bene facciamo un'opera di bene facciamo quest'opera di bene dai facciamo quest'opera di bene è un rischio tuttavia che stavate per migliorare a essere rosso e infatti va bene non immaginavo però lo stanniamo dai intanto gli buttiamoci un po' di vita lo abbiamo stannato quindi il prossimo turno è safe per il momento però guardiamo per diventare ragazzi funziona a parte proprio scoppiato cioè vedete che lei alla fine fa anche dei danni va bene che è un bloop contro rosso però fa anche dei danni lei ci arriva a fare i danni ora lui è praticamente morto se non fa un qualcosa sul mio mel sul mio lv però vai dio bello ci sto dai oggi pullo emcosmo oggi pullo 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 ok in altra bella ulti non so quanto ti convenga perchè mi torna in vita non so se sei conoscenza della sua ulti ma mi torna in vita non so se lo sapevi eh quindi potrebbe essere che effettivamente non lo sapevi e potrebbe essere anche che effettivamente potrebbe essere abbastanza nella cacchetta che io ora la ulti la tiro ma lei è un casino ve lo dico non ce la buttiamo giù delieri delieri non la buttiamo giù ve lo dico non possiamo toccarla perchè ha il buffo 2 stelle quindi o ulti o ulti non possiamo togliere il gouge ciao xx fan è un pomeriggio e infatti non è scoppiata sicuramente ci shotterà Meliodas ma lei non sa che torna in vita lei non sa che torna in vita quindi però meglio lui non sa che torna in vita quindi chi shotterai Livia Elizabeth o Meliodas secondo me è scotta Livia secondo me è scotta Livia sono due le opzioni o Livia o Quitta ci conto ci conto Livia ma torna in vita torna in vita stucca ops ops qualcosa è andato storto va bene qualcosa però è andato storto eh nei suoi piani mi sa che qualcosa è andato storto mmm qualcosa è andato storto mi sa eh mi sa proprio di si non so cosa ma c'ho un sentore di stortimento in questo caso stortimento ho sentito un po' a me c'ho un sentore di qualcosa è andato storto mmm non credo che rimandi in vita se rimandi in vita tipo per un colpo risciò poi scoppio e vorina MORI ciao ciao bye guys bye guys del rieri bene te li ho mandati dopo il guardo dopo il guardo un pomeriggio oggi mi son perso un bel po' di pvp per fortuna tutte vinte stavate che la terza è aperto stavate di stavate di grazie dell'UNCAP e a te ti do l'onore al tuo compare verde ti buttati giù proprio gli do l'onore guarda se si può pure un basso ha una bella ho e tre stelle tanto per tirarla non basterà messa la single target infatti mmm non basterà rip grazie mille franci grazie mille grazie mille fa piacere ragazzi vi ricordo meno 5 in chat se volete supportarmi al massimo fate il punto secondo tipo sub e vi ringrazio in partenza ragazzi ma questa fa male per ora sto a 195 ragazzi grazie mille assolante per il follow benvenuto trovato grazie mille meno 5 ragazzi si torna su 200 dai ora lo faccio 100 100 polino ora non c'è male niente infatti ciao raga ma questo si è rotto avrebbe fatto 100 e passamina di away è rotto sto my odas bella trail buon pomeriggio meno 5 ragazzi dai meno 5 sub in chat ok e un'altra è vinta ora ne manca una in teoria no stiamo già sopra stiamo già sopra due vinte easy stiamo già sopra posto stiamo già sopra però non continuiamo che noi puntiamo alle 3000 noi puntiamo alle 3000 bravissimo dio bello bravissimo l'attendo con ansia